Abbiamo chiesto di ridare voce ai bambini, ai più piccoli che in questo dibattito sono stati completamente assenti. Lo stesso Conte durante la conferenza stampa si era dimenticato di parlare delle scuole. Ridare la voce a loro, ai loro bisogni e ai loro diritti. Primo fra tutti quello dell'istruzione e di tornare a scuola. Poter dare una risposta concreta a studenti e famiglie, questo in sostanza è il contenuto di una lettera inviata al Premier Giuseppe Conte e ai ministri dell'istruzione delle pari opportunità da parte dell'assessore alla scuola del comune di Monte San Savino, Erika Rampini, assieme ad una mamma, Martina, originaria di Arezzo ma che oggi vive a Terni per lavoro. 700 le firme raccolte attraverso la mail, adesso la lettera è sulla piattaforma change.org. Ma si comincia a capire come si potrebbe fare perché nei comuni grandi come quello di Arezzo il sindaco ha detto che proveremo a fare anche una ricognizione dei luoghi pubblici, ma nei comuni piccoli, come purtroppo o meno male, dovremmo dire, ce ne sono in Toscana, magari non tutti hanno luoghi pubblici da poter aprire per ripartire in sicurezza. Infatti questo è uno degli aspetti che avevo messo in evidenza anche nella lettera, di dare delle indicazioni ai comuni perché non siamo tutti uguali, abbiamo tutti territori e dinamiche diverse. Noi non abbiamo spazi pubblici numerosi da poter recensire, abbiamo le scuole e le palestre, questa è la nostra realtà e abbiamo necessità di capire come comportarci a settembre. Tra le ipotesi c'è anche quella di poter riaprire i centri estivi. La regione Toscana ci sta aiutando ai comuni, alle varie conferenze zonali, per vedere di creare delle opportunità che non siano vere e proprie attività didattiche, quindi non sono sostitutive dalla scuola, ma siano una possibilità per i genitori di andare al lavoro in questa fase 2 che è ripartita in maniera più tranquilla. Quindi volevamo vedere di mettersi d'accordo un po' tutti insieme per avere anche delle direttive uniformi senza andare ognuno per il proprio vento. e quindi di partire da metà maggio, dare una nuova opportunità ai genitori di tornare a lavorare sereni.